Ciao a tutti da Giussi, bentornati o bentrovati sul mio canale e niente ancora grazie di cuore a chi ha deciso di iscriversi, a chi sta guardando i video chi invece volesse iscriversi sicuramente sarà il benvenuto o la benvenuta attivi la campanellina e si iscriva ovviamente per non perdersi nessun contenuto ancora grazie di cuore allora oggi sto iniziando a registrare il primo di quattro video dei regali di Natale allora vi sto facendo vedere soltanto le robe beauty perché quattro? potevo fare un video solo perché molti prodotti, due in particolare, anzi tre, sono legati a dei brand quindi mi dispiaceva insomma metterli tutti nello stesso calderone scusate ma ho deciso di fare così allora il primo me lo sono chiamata io, lo so benissimo perché comunque dicevo che dopo Estée Lauder e Lancome mi interessava questo qua ossia il kit natalizio, regalo natalizio di Shiseido ed è arrivato, me l'hanno acquistato, l'ho già aperto come vedete per velocizzare il tutto c'è anche la scatolina, poi farò la foto con la scatolina eccetera e niente quindi eccolo qua, c'è il famoso finalmente è arrivato non mi sono sentita di acquistarlo io e me l'hanno regalato quattro persone ossia quattro cugine che approfitto ovviamente per ringraziare allora come vedete è tutto molto compatto c'è quindi la tecnologia giapponese ovviamente ha fatto il suo lavoro è bicolore e quindi è rosso da alcuni lati mentre da altri lati è tipo bordeaux anche sotto vedete come c'è che i miei gatti hanno fatto il loro lavoro allora non ho provato nessun prodotto a differenza di insomma di per esempio del calendario di Bare Minerale quello che ho comprato io e quindi l'ho solo guardato mille volte quello sì però adesso lo spacchettiamo così lo spacchettiamo c'è vi faccio vedere il contenuto il contenuto il contenuto vi faccio prima sbirciare eccolo qua allora c'è del make up e c'è della skin care io inizierei della skin care allora il primo prodotto è questo qua allora come vedete è molto ma molto compatto però una volta tolto il cartone che c'è all'interno lo si può ovviamente utilizzare dico compatto proprio mi ricorda come dico sempre io l'ingegneria giapponese riescono ad infilare ho anche da fare una critica allora c'è il siero anti-age l'ultimo nato in casa Shiseido non l'ultimo perché l'hanno fatto adesso perché c'era anche prima infatti io ho provato quello precedente questo qua è potenziato quindi è molto più efficace ed innovativo grazie ad una nuova tecnologia perché loro vivono di tecnologie loro sono maestri in tutto questo che è formulata con otto ingredienti ovviamente queste info ci tengo a sottolinearlo che le ho prese da internet perché voi sapete che mi vado ad informare su quello che poi vado ad usare quindi io non sono un'esperta di inci assolutamente e non sono neanche un estetista ci tengo a precisarlo sono un'appassionata quindi grazie a questa tecnologia che è formulata con otto ingredienti vegetali il risultato ovviamente dovrebbe essere quello di una pelle più giovane e sana è nel formato da 15 ml probabilmente è lo stesso che c'era nel calendario dell'avvento il pack ovviamente è l'oro cioè giapponese proprio e all'interno ci sono 15 ml mi pare se non sbaglio scusate un attimo perché non mi ricordo più le solite pause sì è da 15 ml all'interno ci sono 15 ml di siero quindi 15 nel calendario più 15 fanno 30 allora io al momento non vi posso dire com'è perché non sto testando Shiseido perché dico non va messa una crema stasera domani sera mi metto la crema B dopo domani la crema C assolutamente quindi un trattamento secondo me va fatto sul serio per cui per adesso Shiseido l'ho messo da parte allora parte skin care ci sono due creme qui c'è una cosa molto strana a mio avviso poi magari sono io fatemi sapere allora c'è una crema per la notte e una crema per il giorno e la notte quindi non è una combo e sta cosa mi stranizza allora andiamo su quella night allora questa qua è la crema notte il pack è molto normale ecco non c'è niente qua di ingegneria giapponese sono però 30 ml 30 ml però alla fine devo fare anche una critica ovviamente a Shiseido allora questa qua va a risvegliare i recettori sensoriali della nostra pelle quindi va a rinnovare la pelle proprio dall'interno è detto quindi la va a rendere più giovane grazie appunto ad una nuova tecnologia brevettata sempre dai signori Shiseido è una crema ricca e nutriente agisce quindi durante la notte contrastando le rughe rimpolpando illuminando la pelle per cui alla fine dico il risultato è pelle liscia elastica sicuramente levigata e luminosa è una crema ho letto perché io ancora non l'ho aperta perché se la apro poi devo vedere quanto Pao ha ha una profumazione quindi è floreale e rilassante c'è scritto quindi non so non lo so se è piacevole o meno non ne ho la più palida idea quindi sono comunque sono 30 ml di crema notte poi hanno messo questa crema qua che io all'inizio pensavo fosse una crema giorno però non c'è l'SPF quindi sono andata a vedere su internet e ho visto che è un anti-age e si può utilizzare sia la mattina ed è la stessa linea quindi sono tutte e due anti-age sia la mattina che la sera non capisco perché dico magari non lo so comunque questo è quindi si può usare mattina e sera nello specifico appunto non c'è l'SPF è un anti-age e va a dare un aspetto più giovane levigato e rassodato alla nostra pelle quindi crema notte e crema sia da giorno che da notte senza SPF sicuramente sarà la nostra valide tutte e due però quando le proverò vi farò sapere per adesso non sto testando Shiseido allora vado avanti con la parte prima che mi dimentico perché sono li hanno sistemati qua allora raga ho visto il costo di questi patch che sono i patch per gli occhi ce ne sono due bustine qua nello specifico nel calendario dell'avvento ne hanno messo una ho visto che la confezione che ne contiene non mi ricordo se 6 o 12 perdonatemi costa davvero davvero tanto allora questi è detto che andrebbero utilizzati due volte a settimana dico dateci la scatola che noi li utilizziamo due volte a settimana allora io quelli che c'erano nel calendario dell'avvento sinceramente li ho usati tutto il resto no sono strepidosi allora comunque sono idratanti sono nutrienti vanno a rifiutare il contorno occhi e vanno anche a migliorare l'aspetto del spento della pelle spenta o comunque delle occhiaie e ce ne sono due di buste di bustine e adesso che conosco il costo sono contenta di averne trovato due allora andiamo avanti magari li tiriamo fuori quelli no allora andiamo alla parte make up allora inizio a tirare due prodotti e poi tiro fuori gli altri due ma infiliamo tutto qua perché altrimenti inizia a fare disastri allora raga io non ho provato nulla questa volta ma proprio nulla allora questa è la nuova linea di Shiseido io continuo ad acquistare una palette che è ancora in gira in alcune profumerie ma è vecchia sono andata a vedere su internet ci sono i nuovi ombretti raga allora per la prima volta sto swatchando questo lipstick che è nella colorazione grazie al cielo 505 dico grazie al cielo perché è sbirciato su internet la 506 la colorazione 506 dovrebbe essere un aranciato questo invece è un bellissimo rosato ah scusate vabbè vabbè sono i miei video raga scusate non ve lo volevo lanciare allora il pack oramai dei nuovi prodotti Shiseido è questo qua come abbiamo visto nel mascara e eyeliner del calendario dell'avvento è calamitato ho giocato tante volte con questo giocattolo allora lo andiamo a swatchare basta ho finito di fare la scema come vedete è un rosato guardate la squadratura cioè di qua l'hanno squadrato ci hanno fatto questa squadratura così di qua ecco c'è come vedete non è neanche swatchato vi ho aspettato cioè ho aspettato di fare il video è un bellissimo bellissimo rosato eccolo qua quindi questo è stato calato su di me grazie cuginette allora andiamo avanti ancora ah c'è la calamita giusto carino allora questo qua raga costa tanto qui c'è l'ingegneria giapponese allora questo qua è un illuminante nella colorazione 02 solar adesso quando lo apro allora qui gli ingegneri si sono dati da fare guardate il pack cioè ditemi se questo non è un pack proprio studiato allora dentro c'è la sua cialda credo sia in crema io ancora non l'ho aperto questo ve lo giuro la colorazione è solar 02 ok allora allora c'è scritto che serve per il viso per gli occhi e per le labbra io sulle labbra non so se ho il coraggio di mettere questo perché sinceramente vorrei tenermelo per il viso ed eventualmente per gli occhi però ancora non l'ho neanche allora è tutto glitterato ma tutto glitterato come vedete è un bel dorato è una full size questa allora ve lo vado a sbocciare no vabbè è super cremoso cioè dove è il dito il dito qua no no vabbè no io questo non lo posso mettere mi dispiace sul allora adesso non so se si vede se si vede è qua comunque vi assicuro che si vede allora proverò a metterne di più credo riusciate a vedere non lo so allora eccolo qua e praticamente sono dei brillantini è un doratino con questi brillantini appunto dorati secondo me questo sull'occhio io come illuminante sul viso non credo perché mi sembra scuro per me questo quello del calendario precedente ho sbagliato era il contrario questo qua secondo me sugli occhi per quanto mi riguarda è top quindi a questo punto probabilmente anche sulle labbra comunque si può usare sulle labbra sugli occhi e sul viso così almeno dicono questa è la numero due è la numero due sì quindi c'è anche la numero uno allora andiamo avanti con la parte make up li prendo tutte e tre i prodotti perché ce ne sono tre allora facciamo spostiamo sto coso dove lo metto dove dove allora provo a spostarlo un attimino di qua allora iniziamo da lui che già conosciamo è il nuovo mascara di Shiseido grazie al cielo l'hanno messo nella colorazione black perché hanno fatto quattro colorazioni compresa l'azzurro se non credo compreso l'azzurro e il verde non so che cosa grazie al cielo hanno messo il black grazie quindi adesso io ne ho due non vi faccio vedere lo scovolino perché sinceramente ho aperto altri due mascara e quindi già siamo al limite però prima o poi insomma dovremmo fare un video ho aperto e ho provato e allora questo scovolino è detto sul sito ovviamente non è una cosa che so da me anche lui ha una sorta di design esclusivo praticamente ve lo leggo ve lo sto leggendo in questo momento ha due lati concavi per dare volume e due lati piatti per sollevare le ciglia quindi praticamente va a dare volume non sbava e non crea grumi quindi qua interviene sempre l'ingegneria tedesca giapponese come dicevo nel video dello spacchettamento del calendario dell'avvento quindi adesso ne ho due che bello ma credo che uno dei due molto presto dovrò aprirlo quando lo aprirò farò il video di vediamo come sono allora qua c'è una cosa che non mi è piaciuta ora non so se per loro magari è normale utilizzare questi colori o se mettono le cose che non riescono a vendere non vorrei essere monella e magari dicono poi magari si vengono a comprare il black allora io ho provato l'eyeliner che c'era nel calendario dell'avvento sugli occhi ed era di colore celeste l'ho provato non solo è super cremoso non dura da Natale a Santo Stefano giusto perché siamo in tema è veramente veramente ha una tenuta pazzesca qui c'è un altro eyeliner solo che anche qua non hanno messo il black hanno messo il marrone quindi anche qua poco inclusivo magari non lo so in Giappone magari è molto usuale usare vari colori quindi non lo so se è una cosa fatta mirata apposta per farci acquistare il nero perché io per esempio questo non riesco ad usarlo anche se molti dicono che è colocchio chiaro questa è la vita sua ma io non ci riesco quindi per adesso lo tengo così chiuso e poi vediamo allora poi c'è un prodotto strepitoso a mio avviso allora questo qua è un duo è un lip liner primer più quindi base più lip liner anche qua c'è andata di lusso nel senso che le colorazioni veramente erano tante questo è un rosato allora da questo lato ovviamente la matita è retraibile quindi non vorrei tirar fuori niente quindi da questo lato funge da primer ed è anche idratante da quest'altro lato qua io quando lo proverò voglio vedere se riesco anche non solo a fare oddio ad utilizzarlo su tutto su tutte le labbra perché secondo me è super cremoso non credo su tutte le labbra è abbastanza duro sembra quasi una matita in legno non sto scherzando è durissima è strano perché di solito aspettate non è che mi ho tirato fuori poco no allora rispetto all'eyeliner che era morbidissimo questo è molto più duro però secondo me il suo effetto lo farà sicuramente perché ai prodotti Shiseido io credo allora ho da fare una critica ovviamente non a chi mi ha regalato ci mancherebbe grazie ancora di cuore da fare una critica Shiseido allora i prodotti che ci sono qua dentro sono top ci teniamo anche l'eyeliner di colore marrone manca qualcosa mancano gli ombretti e il blush io sono andata su internet ho visto che la nuova collezione è strepitosa sia per quanto riguarda il blush ce ne sono di due linee e sia per quanto riguarda il mascara c'è anche una palettina ma il mascara scusate gli ombretti mono sono veramente strepitosi almeno così sembra poi li devi avere in mano però dico dopo aver visto questo cioè dopo aver provato l'eyeliner che ho di là celeste ciaoone e non ce n'è per nessuno dico perché non mettevano dentro tanto ci stava cioè loro ce la facevano a farlo stare qua dentro una mini palettina creata a posto oppure semplicemente un ombretto mono senza quindi andare a creare niente un solo ombretto mono anche in mini size la mini size la sapete creare è un mini size di un blush secondo me manca questa parte che da Estée Lauder ecco perché non l'ho acquistato non l'ho acquistato prima cosa per i soldini appunto perché ne avevo acquistati due già bastavano seconda cosa perché vedevo che mancava questa parte quindi secondo me la parte che manca appunto è un blush più un ombretto o una mini palettina di ombretti detto questo io vi saluto sono super contenta di aver ricevuto lui anche se comunque mi manca quella parte lì che secondo me già so che durante il mio compleanno quando mi faccio l'auto regalo lo acquisterò cioè io vi faccio vedere ancora sto coso ma è veramente bello è molto compatto e hanno fatto entrare tutto con dentro sono stati bravissimi hanno infilato le due maschere i patch allora io vi saluto vi mando un bacio alla prossima il prossimo video dovrebbe essere ancora più breve ciao ciao